ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video tag un altro tag dove ovviamente sono stata menzionata da miriam tuttofare creativa sì e niente questo video tag le cose più strane vabbè non so come dire conosciamoci meglio lo sto riproponendo sul mio canale allora dunque cosa faccio nella vita a parte youtube la casalinga quali sono le mie fisse più strane e più peggiori allora diciamo che quando devo lavare per terra o altre cose mi sono fissata che se passo sul pavimento bagnato per prendere una cosa o l'altra poi devo ripassare di nuovo lo straccio nella traccia che ho combinato io poi per quanto riguarda lavare i piatti non le lavo sempre una volta ogni tanto ma quella volta che le lavo le devo lavare per forza di nuovo da capo cioè nel senso mi spiego meglio se lavo i piatti di pomeriggio li lavo alla sera o alla mattina o alla mattina quando mi sveglio dipende ragazze poi cos'altro dirvi ho compiuto qua di fronte quindi vedo le domande anche se domande non sono non le vedo granché perché nel senso che non voglio divagare allora non c'è domande qui quindi sto andando a occhio a caso di cosa può aver detto miriam tutto fare perché come sapete voi mi ha menzionato ma le domande non le vedo comunque ho capito di cosa parla allora praticamente io sto dicendo da prima che per quanto riguarda scusate che sono divagato ma era per precisare di cosa stavo parlando e dicevo per quanto riguarda la polizia dei piatti non sono cioè sto imparando lavoro che mi avete detto di risciacquare i piatti con l'acqua corrente è ok nell'acqua con cui lavo i piatti il metto ovviamente il detersivo nell'altro lavello risciacquo acqua corrente e comunque mi dicevo sono fissata che o al mattino al pomeriggio al pranzo dopo pranzo li devo lavare perché non ce la faccio a stare senza troppo lì a sforzarmi e niente non mi sforzo di nulla perché ragazze non vorrei che i punti mi si poi c'essero ci si rovinassero e si spaccassero in due cioè come si può dire non vuole di una castelleria cioè non vuole che i miei punti che mi ha messo il dentista tra virgolette potessero andare a a perdersi cioè a rovinarsi oppure a fare cose strane tipo vabbè non voglio direvi le scuse però sì è vero dopo il torno a lavare i piatti e via discorrendo perché anche a me piace lavare i piatti voi non lo sapete come lavare i piatti mi piace davvero tanto e niente quindi nulla ragazze sta il fatto che scusate se guarda giù sotto qua ma è un video che sta caricando quindi il video tag di un'altra youtuber che mi ha menzionato e lo sto e lo sto registrando sempre oggi in domenica quindi niente quindi cosa volete più si sto già variando troppo comunque altre video altre altre fisse che ho tipo cosa faccio durante durante la settimana niente faccia la spesa come on vado in giro faccio insomma vado in giro per palau a volte faccio i video blog si stavo il video per voi cioè per voi ma anche per me stessa mi do mi do mi do conto io ovvero cerco di tenermi io pulita i capelli a tre tanto cioè uno di questi giorni devo andare al dentista non per togliere i punti perché non vorrei che mi si levassero da soli ma vabbè non lo so non credo quindi devo andare a disfari punti cioè a togliere i punti e dal dentista ovvero non vi dico dove tanto mai l'avete già capito dove devo andare a sassari e quindi niente ragazzi e ragazze quando andrò a sassari devo andare a togliere i punti nel frattempo in questo giro appunto vi dicevo di tanto in tanto per l'appuntamento per fare la celeste all'estitista ma quello già lo sapete le mie attività le attività non le conoscete perché ho aperto un canale youtube perché a me youtube mi piaceva da piccola da quando ho cominciato a guardare i video sia musicali che anche video come dire di bellezza tipo clio make up tipo che adesso non mi ricordo altre youtuber che tipo gloria fair che altro non mi ricordo più comunque chi era facchetti tutte quelle youtuber lì perché tanto youtube non ci vedo c'è nel senso sono la youtuber ma che youtuber sono non non sono così brava a fare video però perché sono onesta io video li faccio perché mi piace farli però come so dire a voi sembra che li so fare ma in realtà a me non mi sembra che li so fare però li faccio sia per passione ma anche perché un indomani potrebbero diventare un lavoro perché no però al momento sto ferma lì ovvero sto con le gambe che c'è con i piedi per terra perché non farei caso di sognare troppo all'ingrande perché come si dice bravissimo troppo storpia quindi non va bene e niente ragazze era per dirvi che questo video tag appunto era perché volevo farli conoscere meglio perché io faccio youtube per tutte queste cose qua uno perché mi piace tenerti compagnia due perché mi piace i miei chiacchiericcio e tre perché amo fare i video make up per la pulita posto profumata ma anche bella truccata i capelli intanto farò qualche video tipo qualche video su come mi tengo in ordine i capelli e farò qualche conciatura vediamo se mi riesce non dico nulla di come dire non dico nulla di non dico nulla di di non faccio nulla di chissà che di eclatante però ci tengo a ribadire che i capelli non sono tanto facili da da domare ma in un certo senso lascio fare mia nonna lei adesso non c'è però quando c'è mi fa i capelli lei me li mette a posto me li spero me li sbroglia bene a ciuffo per ciuffo per non farmi male perché i capelli aiuto vabbè e quindi niente ragazze a parte questo andiamo avanti che meglio nel tempo libro che faccio però c'è nato in questo altro video del video tag che vi sto per caricare su youtube questo in questi giorni per esempio la domenica faccio video mentre gli altri giorni mi riposo e cerco di cerco di aiutare mia nonna anche se non vogliamo lo faccio perché ci vivo anche in questa casa e non mi sembra bello neanche fregarmene di lei e far fare tutto a lei si è vero ci sono dei giorni delle volte dei momenti no che preferisco che faccia tutto a lei ma sarei un po anzi sono un po ipocrita sono un po falsa e sono anche un po furba perché mi piace quasi si dovrebbe tutto subito no è sbagliato le cose come diceva la mia amica vanno sudate perché se non se non ti prepari le cose ovvero se non ti sforzi e non ti metti in pratica come pretendi che le cose vengono a te ok gli altri vengono a te non parlo di youtube ma anche nella vita in generale se tu non ti metti in pratica le cose anzi parlo di te perché parlo di me stessa ovvero se io metto la cosa in pratica però non la faccio c'è una cosa in pratica non la faccio dico sì 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 ok va bene come faccio tante volte io non è valida la cosa dovevo rimettere in pratica e vedere fare tante prove vedere se sono riuscito o meno tutto lì e niente quindi durante il discorso che stavo dicendo sì praticamente sono un po strana ma è vero tipo il caffè il caffè mi piace farmela io stessa perché è vero io non sa fare bene il caffè ma tante volte mi piace di più fatto a me e niente altro tipo di cosa mi piace molto allora le canzoni più richiese mi piacciono però tante volte non riesco a sopportare tante volte non voglio discriminare queste cose però preferisco di più ascoltarmi cioè andare sul profano che andare sulla roba su non so se mi sono capita dal religioso al profano profano non so perché tipo la musica italiana è bellissimo tipo ascolto lorenzo giovanotti ma non sempre valido escano o altre canzoni tipo arti artistiche tipo il sonora oppure altre canzoni tipo quando sono giorgia laura pausini gianni morandi adriano celentano e tante altre canzoni altre altre artisti scusate quindi niente ragazze ragazzi questo era un video dove io mi dico praticamente tutto quello che faccio durante la giornata spesa faccio una colazione mi vesto mi trucco mi uniforme che oggi va bene la come metà sopracciglio ma non comment oggi è andata così e mi so che andrà così per tutta la giornata pure perfino sta diluviando vabbè non diluviando è brutto tempo sta piovendo la santa messa e credo che tornerà forse non prima di me soggiorno dipende vediamo quindi ragazze ragazzi mi nel frattempo video sta caricando e sta finendo almeno lo spero ai sei ragazze nel frattempo guarda anche tanti giorni barbara palombelli durante le attività e su canale 5 20 e alle due lo stesso poi c'è tante altre attività che ripetisco e ritorna ripetere guardo di utifu segreto tempesta amore chi chi ne ha finalmente terra amara insomma ragazzi e la ripetizione dell'altro video track però vi ripetisco non ripeto più perché tanto me lo sapete quindi tante volte faccio anche fatica a guardare tutto perché mi rilascio più a guardare i vostri video su youtube è ormai diventata una fissa youtube non per solo per le visual ma anche perché mi piace guardare i vostri video non è una colpa ma è la realtà di come stanno le cose fatti cos'altro volevo dirvi sì mi piace guardare i vostri video mi tengo compagnia quanto voi tenete compagnia a me e sì è una bella cosa la vostra compagnia mi fate felici mi fate felice felice non per ora grossa però mi fate serena mi fate rimanere serena mi fate stare serena e di questo vi ringrazio grazie 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 di cuore già grazie tanto così saluto innanzitutto amare lis cuba libre perché è una brava donna è bravissima e veramente ha tanto da dare da insegnare per una brava donna adoro e la stimo molto cuba libre a marlis ciao marlis non so se vedrai mai il mio video ma qualora lo vedessi qualsiasi momento lo vedresti ti saluto perché sei veramente brava ti stimo e grazie di cuore per la tua dolce compagnia ma anche grazie a tutti voi ragazze perché siete simpatiche umili e lasciatemi dire anche oneste e brave donne ma anche agli uomini bravissimi mi piacete come fate i vostri video io non mi conosco nella vita reale però penso che siate tutti bravi persone ora non parlo tanto perché voglio farmi carina e gne 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 no lo sono anche nella vita reale tutta volta gne 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 però ci tengo a ribadire che mi piace molto il vostro modo di fare di comunicare nei vostri video e poi cos'altro dirvi che le mie fisse sono tipo che ne so prendo il telecomando a mia nonna quando prendo il telecomando a mia nonna cerco di tenermelo io perché voglio cambiare canale dipende quello che c'è a me non piace cambio canale ma se c'è qualcosa che lei cambia e mi piace a me allora io lascio pure cos'altro c'era tipo a me interagere se gli anni passati che era al posto tuo con l'andate usani a me lo guardavo in continuazione era troppo bello perché non parla neanche di streghe streghe era bellissimo come 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 film bellissimo come so proprio come se di tv comunque si outfit che io faccio sono tantissima a volte rimango sempre con la stessa roba anche se tante volte mi cambio e metto diversa roba tipo pantalone leggings kimono nero oppure che ne so maglietta buccherellata quelle tipo che avete visto altra volta il mio video ricamata in una rosa cipria era quella maglia non so provare a vedere vedere un altro video outfit parla video blog che riccio appunto quelli di adoro farli e so che piacciono molto anche a voi cosa troviero ah sì finisco qualche a alcune persone allora io ci tengo a dire che nel outfit non indosso sempre le stesse borse e sempre se siano menti indumenti ma indosso anche altri diversi indumenti tipo la maglia rossa anche nei video indosso il pigiama dipende dal tipo di pigiama perché non faccio la doccia si tutti i giorni ma ci sono dei momenti che la doccia quando non posso me la faccio a a momenti tipo sabato domenica a volte salto un giorno per me la doccia perché dipendevo che la faccia in casa è impossibile perché se la fa prima di me quindi mi salta e me la faccio o di sera o di mattina però se no me la faccio tutti i giorni se sto a pulire i giorni in casa la doccia me la faccio o sì o no un giorno siano altrimenti a riparisco si la faccio tutti i giorni per quanto riguarda le scarpe a molti metto si fa bella giornata una giornata bella calda potente le scarpe da tennis della nike che mi avete visto un sacco di giorni di giorni fa nei video oppure metto le stivali ma solo se fa freddo cane si fa un freddo boia basta ragazze questa è la videota che è diventato un po lunghetto ma pazienza allora ci tengo a taggare stefania dimensione artistica credo che si chiami si vedete un attimo che guardo dimensione dimensione stefania libertà artistica si si chiama così sto vedendo quel computer poi ci tengo a taggare scarlett diva si però non so se lo farà perché evadisco le domande non ci sono però è tipo come se fosse un ci conoscevo meglio su questo socio su youtube poi vabbè lei l'avrà già fatto non è obbligata ovviamente a rifare questo tag però l'ho voluto riproporre poi oltre oltre a scarlett diva make up voglio taggare elisa mystyle ma vabbè lei l'avrà già fatto la bambina mai cresciuta ovvero veronica e chi altro lady podcast 91 e ausilio donno le piante di tere e altro anna magni e basta non lo so ragazzo anna morana dipende che voglio che riesco a taggare per prima anzi non per prima siete tutti taggati diciamoci la verità senza dire tante pasticci bacio like commento e se vai iscrivetevi e ciao a presto la campanella vi raccomando ciao seguitemi su tutti i miei social facebook instagram e twitter e tik tok ciao buona domenica tutto di nuovo ciao ciao